ma ciao buongiorno buon pomeriggio buon che di buono una proprio uno stracca b mo vi spiego questi sono i waffle questi waffle non sapevano da fare si amore aspetta che ti dobbiamo dire che c'è l'ho qua ecco picotino saluta tutti non te ne frega niente va benissimo come sempre buongiorno buon pomeriggio buono questi waffle non sapevano da fare ma vi spiego tranquilli state di calmi che la tragedia con me è sempre dietro l'angolo per non dire che ce l'ho sempre sotto al letto allora stamattina quata quata ho detto sai che faccio visto che mi sono svegliata prestissimo ok alle sette e mezza ero già in cucina detto sai che faccio faccio la pastella per i waffle poi in pomeriggio li cucino e faccio il mukbang qui waffle tiro fuori tutti gli ingredienti mi sono tirata giù la ricetta tira fuori tutti gli ingredienti fa la ricetta e già l'impasto mi sembrava un po duretto detto bah mi sembra non molliccio come lo fanno vedere su youtube che ho guardato una ricetta guardato il zafferano lì il verde rosa rosso un colore zafferano lì ho guardato quello e l'impasto era un po più liquido il mio era più denso detto vabbè magari lo mettiamo in frigo e diventa e diventa normale metti in frigo con la pellicola vado a vedere il video com'è diventato praticamente mi aveva registrato solamente un minuto e 23 secondi di video basta poi mi ha dato memoria piena io sono stata lì avevo preparato in cucina la luce mi ero portato della luce tutta carina tutta caruccia tutti quei piattini con dentro la farina e l'uovo e il lievito tutto per far vedere tutta bella la ricetta e ma registrato poco più di un minuto e basta memoria piena ho tirato giù tutti i santi del paradiso però detto fa niente fa niente faremo i waffle ugualmente poi gli ho dato il telefono a mio figlio mi ha cancellato i cookie mi ha cancellato una sacca di roba che avevo su avevo la memoria piena ok pomeriggio dico faccio i waffle ok attacco la piastra per fare waffle tiro fuori l'impasto dal frigo cemento a presa rapida se era indurito era diventato cemento perché giustamente visto che ci va il burro sciolto dentro una volta che lo metti in frigo il burro si solidifica un'altra volta perciò il burro solidificandosi sta a fare questo composto per fare i waffle era diventato un duro come non so cosa ho detto mo che faccio ho detto mettiamo un po di latte ho detto magari con latte mi diventa perciò ci ho aggiunto mezzo bicchiere di latte gira che ti rigira che ti rigira l'impasto è diventato accettabile ecco e questi sono i waffle na merda perché non sono neanche venuti belli i quadrati ma sono tutti storpiati ce ne fosse uno che mi è venuto giusto uno uno giusto non c'è e voi figuratevi che questi sono i quattro più belli perché di là ne ho altri quattro che sono molto peggio di questi questi sono i quattro venuti meglio ecco era la prima volta però che li facevo era la prima volta perché la volta del mio compleanno l'aveva fatta mia cognata io avevo solamente sbattuto le chiare d'uovo questa volta invece su sto zafferano avevo visto che non bastava c'era scritto di montare le uova cioè io vi dico come l'ho fatto come l'hanno detto loro allora lì c'erano cinque uova sei ma io ne ho fatte tre ok ho messo tre uova 180 grammi di farina bianca setacciata un cucchiaino di lievito un pizzico di sale e poi cos'è che ho messo e basta di tre uova 180 grammi di farina lo zucchero 90 grammi di zucchero lievito c'era scritto anche la vanillina lì l'estratto di vanilia ma non ce l'avevo il burro 100 grammi di burro fuso e mescolare il tutto e mettere in frigo io ho fatto come però a lui è diventata una roba un po' liquida a me cemento armato e io ho aggiunto il latte tutto sto pappone per dirvi adesso andiamo all'assaggiarli eh allora diciamo che mio figlio ne ha già assaggiato uno non vi dico che mi ha detto ecco non gli sono piaciuti tanto mi ha detto che erano molto più buoni quelli che aveva fatto mia cognata il compleanno mio e sì che guardate che mia cognata non aveva neanche il lievito perché non avevamo il lievito in casa ha fatto tutto così alla cazzo dei cane due uova un po' di latte farina e invece del burro che non ne avevo gli ha messo un po' d'olio e zucchero ha montato così le chiare le bianche le ho montate io e sono venuti perfetti neanche riposato mezz'ora in lavatrice in lavatrice neanche riposato mezz'ora in frigo ci sono venuti che erano buonissimi quadrati belli io che sono stata lì a seguire il zafferano lì tutto perfetto non c'ho feca però è la prima volta che li faccio io la seconda sicuramente spero verranno meglio ma però andiamo con l'assaggio con la nutella no a te no amore questo sinceramente sinceramente vi dirò che se ci si mette un altro po' di appena appena un finino di nutella che va a coprire la farina perché san di farina se ci metti tanta nutella e la nutella va a coprire la farina non sono neanche malvagi sano di farina sano di farina non so cosa ho sbagliato non sono malaccio eh vi dico sono sono soffici vedete sono belli soffici venuti belli alti belli soffici io mi chiedo cosa ho sbagliato ho fatto tutto uguale come hanno detto la ricetta ho rotto le uova gli ho messo giù 90 grammi di zucchero e ho mescolato 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 poi gli ho messo setacciata 180 grammi di farina un pizzico di sale un cucchiaino di lievito mescolato 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 in ultima gli ho messo giù 100 grammi di burro fuso mescolato 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 quello è che hanno fatto pure loro perché allora è riuscito a me no e poi gli ho aggiunto il latte in ultima perché secondo me erano troppo l'impasto era troppo duro non li ha può essere che lui le sue uova erano più grosse e le mie erano uova piccole può essere può essere no però non sono un malaccio eh perché guardate sono molto belle eh sono molto belle e morbide ma è è la prima volta che le faccio pensate che io la prima volta li ho mangiati a disbruck la prima volta che le ho mangiato le ho mangiate a disbruck tanti anni fa erano bisogna metterci tanta nutella così copre copre la farina perché secondo me sono troppo un po' di farina forse dovevo mettere più uova perché lui ne aveva messe 5 uova io ne ho messe 3 sapete secondo me cosa ho sbagliato adesso che ci penso che stupida sapete cosa ho sbagliato che lui ha messo 5 uova e 180 grammi di farina io invece ho messo 3 uova e 180 grammi di farina dovevo con 3 uova mettere 140 grammi di farina 130 invece io ho messo la quantità di farina per 3 uova che lui ha messo per 5 uova è logico che l'impasto è diventato duro ed è logico che sa troppo di farina perché gli ho messo troppa farina per le uova che gli ho messo eh quello è comunque io non mi scoraggio e le rifarò con la ricetta questa questa è una ciofeca è diventata una ciofeca però comunque vi assicuro che non sono vi assicuro che non sono malvagi non sono malvagi la prima volta che li ho mangiati li ho mangiati a disbruco le facevano nella strada nei nei chioschetti erano grandi così avevano una piastra rotonda che dopo giravano così con un affare che giravano così mettevano dentro l'impasto che era molto liquido mi ricordo girarono così sta piastra e venivano fuori grandi così rotondi poi te le condivano come volevi potevi mettere il gelato io quella volta le avevo prese con le fragole le banane il gelato e la panna poi te le giravano tipo a mo' di cono no e le mettevano dentro in un cono e gli mettevano dentro quello che volevi quella volta non me le sono nemmeno gustate questa potrei chiamarla però la maledizione dei waffle potrei chiamarla la maledizione dei waffle secondo me io ho proprio sfortuna con i waffle perché se ci penso quella volta che l'ho mangiato a disbru che erano buoni erano grandi e l'abbiamo pagato anche un botto tipo su 5 euro di uno ma parliamo di un po' di anni fa eh però io mi ricordo che non me lo son goduto sapete perché perché abbiamo preso sti waffle era inverno perché era novembre perché siamo andati mi ricordo che era il mio compleanno poi abbiamo preso sti waffle e siamo entrati siamo entrati in un centro commerciale nella via di Isbru quella centrale dove ci sono negozi a destra a sinistra quella lunga dove arrivi al tetto d'oro in fondo c'era tipo un uping io chiamo tipo un uping una standa come una volta quelli di due piani ed eravamo andati dentro lì e non me lo son goduto perché c'era la scala mobile ok non c'erano le scale normali o c'era l'ascensore o c'era la scala mobile voi sapete che io con le scale mobili non ci vado d'accordo perché ho un po' una fobia ho paura perché come nelle giostre che vi ho spiegato nelle scale mobili io quando arrivo in cima mi fa impressione perché ho paura di mettere la gamba sbagliata il piede sbagliato e di ribaltarmi cioè mi viene l'angoscia perciò io mi ricordo che quella volta lì che siamo andati che avevo sto waffle ne avevo mangiato proprio poco ne avevo mangiato avevo mangiato forse col cucchiaino che ti danno un cucchiaino le fragole le banane un po' di gelato e basta perché poi mi è caduto per terra perché quando sono arrivata su in cima a sta scala mobile a me prende l'angoscia perché dico oddio sono arrivata adesso cado 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 metto il piede cado vado giù rovinosamente davanti a tutti e cado una figura di merda anche qua e cado perciò quando sono arrivata su in cima dall'agitazione mi è caduto per terra sto cacchio di waffle ecco che poi mi ricordo che c'era una signora c'erano quelle delle pulizie che sinceramente quando mi ha vista perché si è spattasciato tutto per terra io ho detto che gentile perché è venuta lì col carrellino col carrello per pulire però visto che ha parlato tedesco io sinceramente dalla faccia che aveva non so se è stata gentile perché ha pulito lei però sinceramente non so se mi ha mandato a fare in culo o se mi ha detto non si preoccupi signora perché me l'ha detto in tedesco io ho detto vabbè se era stata gentile mi avrà detto non si preoccupi signora faccio io ma può essere anche che mi abbia detto stronza vaffanculo capito perché non lo so in tedesco non lo so cosa ha detto comunque ha pulito su lei e quella volta non sono nemmeno riuscita a mangiarlo perché appunto mi è caduto per terra perso già quella volta questo e poi oggi sta roba qua vi giuro che non volevo nemmeno fare il video sto video qua che sto facendo adesso non lo volevo fare perché quando le cose partono male finiscono male ok partono male finiscono male cioè già è partita male che sono stata lì tutta a mettere a posto a fare il video e poi in memoria piena non mi ha registrato capito e poi guarda come sono venuti cioè che poi adesso sono ancora tiepidi e sono morbidi ma secondo me questi qua una volta che diventano freddi diventano tipo cracker perché hanno troppa troppa farina è inutile perché di fatti ci ho pensato adesso e tre uova 180 grammi lui aveva messo cinque uova e 180 grammi perciò non va bene no non va bene comunque non importa non ne mangio più sapete perché perché io sono molto delicata di stomaco voi direte oh tu così delicassi non ho la cistifelia ok perciò faccio molta fatica a digerire i cibi strani questo qua essendo che secondo me c'è veramente troppa farina non vorrei che non li digerisco e poi sto male tutta notte perciò mi fermo qua e non vado avanti a mangiare gli altri perché non mi fido troppa farina cioè ma anche l'odore sa di farina non so il waffle che odore deve avere ma questo è odore di farina non è odore di waffle anche se non so che odore che abbia il waffle vabbè è stata una ciofeca non so manco se lo metterò fuori sto video non so manco se lo metterò fuori se lo vedete altrimenti vuol dire che non l'ho messo che ciofeca vabbè l'ho detto io quando parte male finisce male e finirà che faccio una colica e sto male tutta notte vedrete comunque ragazzi io vi chiudo qua che per oggi è meglio vi mando un bacio e vi do appuntamento alla prossima la maledizione dei waffle chiamiamola così la maledizione dei waffle grazie a tutti grazie a tutti